Buongiorno e buon inizio di settimana La zona dal Tg San Marino è fissata per questo pomeriggio, la verifica interna al PAT La zona dal Tg San Marino è fissata per questo pomeriggio, la verifica interna al PAT La zona dal Tg San Marino è fissata per questo pomeriggio, la verifica interna al PAT La zona dal Tg San Marino è fissata per questo pomeriggio, la verifica interna al PAT San Marinese che da domani tornerà a confrontarsi in consiglio grande e generale San Marino è fissata per questo pomeriggio, la verifica interna al PAT